Voltiamo pagina con la piaga degli incidenti mortali sul lavoro a cui purtroppo anche l'Abruzzo sta dando proprio in queste ore l'ennesimo contributo di sangue. La procura di Sulmona ha aperto un fascicolo contro i gnoti per omicidio colposo dopo la morte dell'operaio folgorato ieri dai cavi elettrici a Castel di Sangro. Donatella Speranza. Sulla statale 17 a Castel di Sangro è stata transennata l'area dove si è verificato l'incidente mortale. Sotto sequestro anche il mezzo su cui Antonio Di Lollo stava lavorando. Il 46enne è rimasto folgorato mentre tinteggiava una parete esterna del capannone di una ditta di conserve, ad ucciderlo dei fili dell'alta tensione. Ma sempre ieri, allorito a Prutino, un 29enne è rimasto gravemente ferito mentre su un trattore stava spostando dei bancali in legno in un vigneto. Ultimi incidenti in ordine di tempo che oggi, unite alla tragedia sui binari nel Torinese, confermano una mara verità. Di lavoro si continua a morire. Un oltraggio alla convivenza, ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella. I lavoratori sono sacri, ha ribadito Papa Francesco, ma le statistiche sono allarmanti. 559 le vittime sul lavoro in Italia, di queste 16 nella nostra regione, che purtroppo si colloca in zona rossa, dove cioè l'incidenza infortunistica è superiore al 125% rispetto alla media nazionale. A dirlo, i dati dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente di Vega Engineering, sulla base dei numeri forniti dall'INAIL. Il periodo preso in esame va dal 1 gennaio al 31 luglio 2023. Gli infortuni mortali sono aumentati del 4,4% rispetto allo stesso periodo del 2022 e sebbene emerga una significativa diminuzione del 21,9% degli infortuni denunciati, bisogna però ricordare che nel 2022 erano ancora molte le denunce connesse al Covid che oggi non compaiono quasi più nelle statistiche. Per quanto riguarda i settori maggiormente a rischio, al primo posto troviamo il settore trasporti e magazzinaggio seguito dalle costruzioni, dalle attività manifatturiere e infine dal commercio. Quanto alla fascia d'età, la più colpita degli infortuni mortali è sempre quella tra i 55 e i 64 anni.